Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi oggi come da voi richiesto e strarichiesto un nuovo video in cui gioco un po' con la schiena e oggi ho tantissime cose in più oggi infatti ho ad esempio di pennelli poi ho il grattaschiena che scominacciato fantastico poi ho questo oggettino in legno che devo ancora capire bene come usare un po' sono bellissimi poi ho quest'altro rullo e infine ho anche tipo uno stetoscopio con un po' di scratching non so come tu faccia per i brividi certo non sono di freddo sei comoda? si io adoro che quando mi prendono questa parte così poi si sente bene non so se qualcuno più esperto lo starà se ne starà accorgendo ma sto usando un microfono diverso da quello che uso di solito per i massaggi di solito uso lo zoom però in questo caso sto usando il Blue Yeti perchè secondo me cattura meglio i suoni comunque ho in previsione di fare degli acquisti proprio specifici per i massaggi quindi microfoni dentro le orecchie e anche dei microfoni molto più sensibili per catturare tutti i suoni bene molto probabilmente vedrete anche un altro video o avrete visto un altro video invece di massaggio quindi applicerò un po' di crema corpo e un po' di olio soprattutto qui che lei soffre molto qui di mal di schiena e l'altro questo? l'altro? di qua? ok adesso decichiamoci un po' i grattini voi ve lo ricordate da piccoli il gioco tu lo facevi il gioco dell'orto? dei pomodori sul brazzo? no io si le fragole? neanche? aspetta aspetta commentatemi qui sotto se vorreste un video di massaggio però alle mani e ai lavabbracci secondo me è molto rilassante guardate i grattini lì sono belli ok allora andiamo con ordine partiamo dal collo e andiamo su e andiamo su di patino un po' ok e poi pian piano le spalle andiamo su e di qua e andiamo su e e andiamo su ancora andiamo su e vado pian piano a prendere tutta la schiena in mezzo e il collo e ancora dal basso e dal basso in mezzo e al collo facciamo proprio dall'altra parte e così e così e così e in mezzo adesso andiamo con questo strumentino qui che funziona pazzesco e lo infilo e lo infilo ok e quindi esagito di leggere pressioni ok quindi esagito di leggere pressioni l'ho sentita l'umore è bellissimo tipo circolare l'ho sentita l'ho sentita l'ho sentita l'ho sentita l'ho sentita è bellissimo ok ok magari lo sarò anche nella parte di massaggio poi poi andiamo a usare un pochino lo stetoscopio ok 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 in questo caso è stato per puro scopo il rilassamento, non per altro questo è stato qui no? qui? o qui? dove sono i polmoni comunque? o anche dall'altra parte sulla pancia ok? e vado adesso con i pennelli, questo che è bellissimo e vado proviamo a farlo contemporaneo ok? direi ok 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 Non so bene le bellissime ok adesso un po' col pennello piccolo e mi sa che adesso è giunta l'ora di abbassare l'esercizio e di augurarvi una buona notte insegniamo una nuvoletta una luna una stella buonanotte buonanotte segnito oro ciao grazie